Musica Hi people of youtube, welcome to a new episode of Jackie Chan Adventures A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata Questo è un gioco che ho sott'occhio da un bel po' di tempo Avevo provato un bel po' di tempo fa a registrarlo Ma mi dava problemi con alcune texture Quindi non ho mai provato il gioco effettivamente Direi quindi di non perderci oltre e iniziare una nuova partita Salvataggio completato Ammetto che non so se questa parte ve la posso far vedere Visto che qua è l'animazione del cartone quindi non sono sicuro Ok questa parte della trama sai che non me la ricordavo per niente del cartone? Sai che non me la ricordavo per niente sta parte qua io? Ok questo so che non ve la posso far vedere perché era la sigla Però che bello era vedere Jackie Chan da giovane Non che adesso sia diverso eh Però se non ricordo male Nel cartone a un certo punto si vede anche la nipota di Jackie Chan nella vita reale Chinatown caricamento in corso Madonna mia lo stile di disegno che roba che è Jackie portami una tazza di te Madonna che ricordi che mi torna indietro con sta roba Il cartone di Jackie Chan su Rai 2 Oh mio dio Portami anche un panino alla soia E poi qualcos'altro? Un'altra cosa Quanto era antipatico lo zio era un fastidio Tu dovrai partire per il Messico Ebbè certo Il Messico? Perché devo andare in Messico? Eh esatto Devi esplorare un tempio messicano alla ricerca di antichi artefatti E i templi messicani si trovano in Messico? Si trovano in Messico certo Devi esplorare il tempio Se trovi qualcosa di interessante portalo qui in negozio Si signore Matteo Non stacene lì impalato Lo zietto ha la gola secca Vabbè certo Prima le cose messicane Poi la gola Ti ho preparato una mappa Prendila e dirigiti verso il punto dove c'è Ebbè c'ha ragione E' come quando ti dicono Ci vediamo a San Francisco Certo Ma che voce gli hanno dato a Jade? Scusami Una quarantenne questa Sarà pieno di trappole O infestato O tutte e due le cose Vabbè E già entrarci non è facile Si dice che quel tempio sia custodito da micidiali guerrieri Ahah Posso immaginare Scommetto che questo non c'è scritto nei Deplianturisti Vabbè Prologo Messico Ti posso dire che lo stile Fatto così io ci vedrei davvero Lo ripeto per tantissimi giochi Ma ci vedrei davvero un gioco fatto oggi Con questo stile grafico Il posto sembra questo Ora devo trovare il modo di entrare Forse potrei passare da quella porta in cima al tempio Forse è l'unica entrata che c'è di tutto quanto al tempio Premi il tasto start per visualizzare Non ho visto Gli obiettivi Vai Messico e procura allo zio alcuni importanti artefatti Raggiungi la sommità del tempio per entrarci e esplorarlo Non c'è modo di alzare Oh cavolo E spero che gli effetti consista anche la voce Perché le voci erano abbastanza basse Poi ci sono delle carte Ok Premix per far saltare Jackie Ok Quindi Quadrato pugni Triangolo calci Combinazione da tre colpi Ok C'è combo Sì Quindi quadrato quadrato Oh Quadrato quadrato Triangolo Ok Quadrato triangolo Quadrato Bello Queste sono le cose che ti fanno apprezzare questi tipi di giochi vecchi C'era davvero tanto impegno dietro Oh comunque lo ripeto Magari non colorato così male Perché vabbè in realtà non è terribile Da tutto il suo senso Perché il personaggio è fatto bene E mi piace che sia tutto contornato Però Magari disegnato un attimino meglio eh Però un gioco oggi così Io ce lo vedrei uscire Come Indy ovviamente Queste rocce Non si spaccano chiaramente E in giro non mi sembra ci sia nulla Oh Jackie può saltare Può correre sui muri E c'è un palese muro invisibile lì comunque Guarda quanto è profonda Sì 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 Guarda l'aspetto che mi ci avvicino Eh già Non è un muro quello Con sui disegni Di alberi No 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 Sono io a essere malizioso E c'è del fumo là in fondo però Ok in giro sembra non esserci nulla Ed eccoli qua I guerrieri mistici Noi siamo i ninja del Messico Vieni combattici Jackie Chan Madonna mia Le combinazioni Eh ci danno dentro tantissimo Combattimento un pelino corto però Non puoi neanche bagnoppare Non c'è proprio modo per andare più veloce Purtroppo Questa è la massima velocità che avremo Va bene l'accetto Abbiamo giocato a giochi molto più lenti Comunque no davvero A livello di qualità Molto bello Davvero davvero molto sorprendente Poi vuoi sempre l'upskilling Vuoi tutto quello che vuoi Con gli emulatori Però davvero 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 Ti dico Sono piacevolmente sorpreso Ok no Jackie Chan può solamente correre In una direzione Mi sa col muro Non può Probabilmente Calmo Fare wall jump O correre sui muri Alla prince of persia Immagino Mi piace tantissimo Che il combattimento Vravero Basta una combo I nemici sono morti Poi ovvio che magari Sono i primi Per carità Però una combo A posto Vediamo se dentro I barilotti C'è qualcosa Oh aspetta Col cerchio Puoi raccogliere gli oggetti Lanciarli In testa qualcuno E meliagra Wow Ammetto che Di tutte le animazioni Viste fino ad ora Il lancio degli oggetti È un pello deludente Per il resto Oh tutte le animazioni Sono carine Cioè guarda anche il calcio In seguito Che bello che è Però il lancio Degli oggetti Ah Vabbè Su qualcosa Dovevano pure risparmiare Cos'è che devo fare Aspetta Col cerchio Per arrampicarti D'accordo Premendo Puoi scendere Ok Ma quindi Non posso saltare Da un muro Credo di no Ma non mi sono arrampicato Col cerchio Vabbè Non importa Più che altro Non ci sono Animazioni in salto Ho visto Aia Non ci sono animazioni In salto Oh Da dove sei apparso tu Comunque se ci tirano Una combo loro Cadiamo a terra noi Oh ti dico Ti dico Non è male A me Non dispiace Per ora Poi oh Siamo a quanto Cinque minuti Di registrazione Madonna mia È l'unica cosa deludente Lo ammetto Lancialo È l'unica cosa deludente Purtroppo Il lancio degli oggetti Però Vabbè Credo sia il meno Dei problemi Credo proprio sia il meno Dei problemi Però davvero Sono respawnati Possiamo già entrare Nel tempio Quanto ci manca Per la cima Comunque questa musichetta Molto eldorado Molto ispanica Vabbè che effettivamente Siamo in Messico Però è esatto Ho appena notato Una cosa Nelle ombre Quando tu hai Un oggetto Aia Quando tu hai Devo vedere una cosa Scusami No Non c'è tipo Il tempismo Nelle mosse E per ucciderli Devi fare totalmente La combo Oh Abbiamo ottenuto la carta Scusami Com'è che facevo Eccola qua Quadrato E poi di nuovo No Triangolo Quadrato Ehi Triangolo Quadrato Triangolo No Come cacchio era La giravolta Ah ok Quadrato Triangolo Triangolo Eccola qui Comunque stavo Dicendo Quando prendi Un oggetto L'ombra Non viene proiettata Ma in realtà Neanche I vasi in generale C'hanno l'ombra Va bene Sono piccoli dettagli Alla fine Questi Sono Il meno dei problemi Però il gioco A me non dispiace Per ora Per quello che sto vedendo Ed è poco Per carità Però a me Sta piacendo Aggrappati Bravissimo Posso salire No Devo stare per forza Giù Dobbiamo fare Uncharted È praticamente Uncharted Prima che uscisse Uncharted Questo gioco E ti dico In stile così Cartunoso Non è male Dove doveva andare? In teoria Dovrei salire No? Ah ecco Non si aggrappava lui Come lo prendiamo? Questo col cerchio Immaginavo Ecco qui Perfetto Dai Resisti Jackie Siamo quasi alla cima L'unica cosa Che mi dà fastidio È che purtroppo La telecamera Posso spostarla Solamente a destra E sinistra Ma se utilizzo Il tasto R2 Posso muoverla in alto E in basso Come voglio Mi dà un fastidio Che posso Ho questo blocco Per la telecamera Che poi vabbè Ci sta È il prologo Però Stavo vedendo che Ste zone Sono abbastanza vuote Nei dintorni Sali Bravo Ok C'è qualcosa in giro Anche io scemo Che me lo chiedo A parte i vasi Dico Oh un'altra carta Abbiamo ottenuto Jackie Ecco cosa c'è in giro Sai qual è un altro gioco Che ha delle carte Che servono per Aumentarti Le varie statistiche Quello di Harry Potter E il calice di fuoco Oh Allora se Anche le carte Si trovano dentro i vasi Tanto vale provarli A rompere Magari Oh Non troverò Magari quello dei nemici In generale Però Lo zio Jade Abbiamo appena trovato Jackie Magari qualcosa di utile Lo troviamo Tanto vale farlo Ecco qua A posto Turututututum Fammi indovinare Devo usare i piedi lì L'interno del tempio Maya Molto bello Mi piace Mi piace come è fatto Lo stile di questo Tipo di disegno A me piace un sacco Vediamo un secondo Le carte Scusami Abbiamo trovato Quindi Il ninja E Jackie E c'è il numero Quindi possiamo Trovarne più di uno Costo 18.40 Ma che cosa Ma che cosa fanno Mi aumentano Le statistiche Quindi Ecco fatto Abbastanza semplice Da intuire Qua Urca Misera Per un attimo Pensavo ci fosse Il danno da caduta Sai Quindi Rompere i vasi Ha ancora più utilità Perché vuol dire Che possiamo trovare Più volte La stessa carta E tu Scusami Quando vedi Questo simbolo Puoi parlare Con Jackie E altri personaggi Ma È un cinese Messicano Il piacere è mio A giudicare dal tuo Abbigliamento Direi che sei uno A cui piace pescare Vabbè Giusto Una deduzione Brillante la tua Anch'io Sono un avventuriero Come te Sai Gira il mondo Un giorno però Mi sono beccato La freccia del ginocchio Per la pesca Ho un negozio avviatissimo Perché non viene a dare Un'occhiata alla merce Certo Certo Sì Magari uno di questi giorni Bene Bene Purtroppo qui Non ho trovato Nessun posto Adatto alla mia attività Sai com'è Voglio solo il meglio Eh Caresco Sì Certo Ascolta viaggiatore Mi piacciono molto I racconti di avventura Ma ho una pessima memoria Devo sempre scrivermi tutto Nel mio libricino rosso E che ne dici Se prendo un appunto su di te Nel mio diario Ti farebbe piacere È il punto di salvataggio Lui immagino A questo punto Ecco Ok aspetta che mi scrivo tutto Non ci vorrà molto Vai vai Fai pure Fai pure Particolare Come punto di salvataggio Non sapevano cosa scegliere Cosa scegliamo Una statua antica Scegliamo uno spirito Scegliamo Un ninja che ti segue Che ti salva l'avventura No 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 Un cinese Vestito da messicano Con i baffoni Mi sembra giusto Anche io avrei scelto così Ok qua è chiuso Abbiamo toro Coniglio E gallo Proseguiamo allora Questa è la tana Del coniglio Posso romperlo Oh aspetta Non posso Posso usarlo come bastone Ti prego Dio mio lo so Che figata Queste sono Va che con i bastoni Ho combo Allora Triangolo 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 Quadrato Triangolo Triangolo Sì 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 Ha fatto l'affondo Ok E con le armi Posso rompere i vasi Figata Bellissimo Questa cosa che hai Anche gli oggetti Certo Non mi aspetto Grandi quantità D'oggetti Onesto Però Poi penso che comunque Anche senza la torcia Noi vedessimo Però L'abbiamo presa Però vi ha ragione Allora aspettiamo le lame Ecco qua Vai Ho sentito un plink Come per dire Bravo Hai superato il pezzo No Continua a farlo Scherzavo Ehi là C'è qualcuno C'è qualcosa qui Allora C'è Un sacco di facce Mi ricorda molto Le foglie dell'imperatore Tutta questa parte Ok Quindi credo che avremo bisogno Del coso del coniglio Per riuscire a passare Ipotizzo Non mi ricordo Come funzionavano Gli amuleti In questo gioco Nel cartone Però mi ricordo Che Praticamente Ti davano dei poteri Ti davano i vari poteri I vari amuleti Ipotizzo Di non potercela fare Però ci provo No 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 Non ce la fai Cioè proprio Hai calcolato A filo Che tu non ce la faccia D'accordo D'accordo Scendiamo di sotto E vediamo Che cosa troviamo Più che altro A me La torcia Serve? Posso scalare le cose Anche se ho la torcia? Sì Posso scalare Perfetto Dunque Credo Che dobbiamo Solo spostare i cubi Vero? Posso farlo Con la torcia? Allora Allora è l'unica cosa Che devo dire Di negativo Di questo gioco Il lancio Degli oggetti Ok 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 Calmi un attimo Prima Facciamo le cose Nel modo giusto Ecco No Di qua Perfetto Ok Quindi immagino Che dobbiamo Azionare Tutti quanti I meccanismi E poi Quello là Di prima Dove abbiamo fatto Il Wall jump Si attiverà Si avvicineranno E noi potremo salire Di sopra Ce ne manca Solo uno Ecco qui Vieni Prendilo Bravo Ecco Fatto A posto Da quale iniziamo C'è un ordine preciso Secondo me No Basta solo No non è vero Aspetta Quattro Ok Uno Due Tre Quattro D'accordo Ok Ti prego Però non dirmi Che ogni volta Mi fai un'animazione Solo che si avvicinano Di pochissimi Centimetri Ecco appunto Saltamela No Sto gioco Non puoi saltare Le animazioni Che palle Va bene Non importa Non importa Che tra l'altro Io questo gioco Me lo ricordo Dai tempi Della Sua uscita Da quando Ai tempi fu Non ti dico annunciato Ma iniziò A uscire Mi ricordo Che lo provai Dentro un centro Commerciale Quando ancora Nei centri commerciali C'erano i vari televisori Con le playstation Attaccate Con tre Quattro giochi Con quattro appunto Playstation Attaccate In cui c'erano questi giochi Che potevi provare E mi ricordo Che c'era Questo Uno Sly Cooper Però non mi ricordo Quale Dovrei vedere Di quando è questo gioco E di conseguenza Capire che Sly Cooper Era Perché appunto Era I televisori Con le varie console Con i giochi nuovi Aspetta Vai al centro Bravo Comunque no Mi sono risposto Jackie può fare Più volte Il salto sul muro Proseguiamo Uh L'ammuleto Di già Ma poi scusami A cosa è servita La torcia Allora Giusto per capirci Bello Ma a parte sto tizio Come Come è steso Tutto tranquillo Lui Talismano del coniglio Quando attivo Il talismano del coniglio Aumenta la velocità Di spostamento E attacco Del suo possessore Molto utile Ma Come faccio Ad attivarla È una roba Automatica Non sapevo Che il tempio Fosse aperto Ai turisti Madonna Che faccia Che c'ha questo Non sono un turista Signor Chan Rappresento Un ricco uomo D'affari Disposto a pagar bene Per il talismano Che hai appena trovato Ahà Come fa A conoscere il mio nome E chi è lei Non è importante Chi sono io Quello che importa È che tu Mi dia il talismano Certo Subito Si sbaglia Io sono qui in vacanza Devo scappare Ci vediamo Non così in fretta Dammi il talismano Subito Non voglio guai Guarda Ma è morto Ah ok Con Con L1 Ma Purtroppo no Uh Carta 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 Fermo Il talismano Fa vedere Costo zero Esegue due azioni Ad ogni turno Subito Ma che figata Sto meccanismo Che figata Che figata Che figata L'ammuleto del coniglio Ma che telefono è È una specie È una specie È una specie di talismano Lo riporto subito A casa Aspetta Il mio amico Mi ha detto Che ci sono tre Importanti artefatti In Messico Eh immagina Fammi indovinare Uno è il coniglio E l'altro è La gallina D'accordo Ma c'è Qualcun altro Interessato A quegli oggetti Devi agire In fretta E tu che ne sai Zio Scusami Figata L'ammuleto del coniglio Ma scusami Se ne attivo Più di uno Come fa il gioco Poi a scegliere Quale farmi utilizzare Io intanto Esatto Ho bisogno Di un po' Di energia Ah forse Basta cambiarlo Con le frecce Con le freccette Mi sa che in realtà Ho detto una cazzata Perché Non sono cose attive Mi sa che sono Tipo un minigioco Questo È una cosa a parte Traccate Spaccato le gambe Ecco fatto Dov'è l'ultimo Preso Scherzavo Ce n'è ancora uno Perché due azioni In un turno Non voleva dire Nulla per noi Ma sai che Giusto per sicurezza Non penso che ci serva Vado a prendere Un'altra volta Il bastone E gli diamo fuoco Non si sa mai Oh Scusami Non si sa mai Che magari Nella prossima stanza Ci possa servire Quindi Azioniamo il meccanismo Aspettiamo Che si apre E via Ecco fatto E si è aperto E si è aperto Credo quello del toro A questo punto Non è detto Forse il toro Questo qua È la via di ritorno Ciao Amico Messicano Mi chiedo Se anche il cinese Sia una carta Guarda La cosa non Ti prego Non dirmi Ho visto una carta No è la L'ammuleto del toro Ok Stavo dicendo Non dirmi che è davvero lui Ma quando è che ho perso? Ah forse quando ha fatto La cutscene Ho perso il bastone Ecco qua Che poi non serve a nulla O meglio Ho perso di nuovo il bastone Quanto ci fai? Ah no Stavolta no dai Il bue Scusami Attacco fisico aumentato di 2 Per adesso io metto tutto Poi Guarda Non so Cosa otterremo dal bue Ma molto probabilmente Adesso che c'è il gallo Ipotizzo che ci aumenta Era uno degli spiriti Che abbiamo visto prima Questo Ci aumenterà Il salto Secondo me Il pocong Aspettiamo un secondo Ecco qua Non è che sia difficile evitarli Basta Saltare Per carità Però Allora Questo È la stanza del gallo E come ipotizzavo Credo che aumenterà L'altezza del salto Però sono sceso Proprio per vedere Quel forziere L'ho intravisto Dall'angolazione Ecco Fatto Grazie Allora Quello del gallo Esatto E abbiamo ottenuto Un'altra carta Che è Quella Non lo so Perché c'è ancora Quella del gallo Sopra Credo sia la stessa Due volte il gallo Scambia posizione Con il personaggio Adiacente Sarà un minigioco Stupidissimo Quello Quindi il gallo Ci fa fare il doppio salto Io avevo detto Ci fa saltare più in alto Quindi Quindi immagino Immagino che il gallo Forse no Bisogna attivare anche quello Stavo dicendo Forse il gallo è passiva Come abilità Vediamo Perché ho il presentimento Che non ce la farò mai In tempo A fare sta roba Jackie Porca miseria No Ok Vai 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 Corri Ecco fatto Quindi Doppio salto Allora Aspetta un attimo Prima Ok No Forse è meglio farlo dopo Forse è meglio farlo dopo Prendi No Levitazione Quando il talismano del gallo attivo Chi lo porta può eseguire Un secondo salto Mentre è sospeso in aria Ok grazie Quindi chi è il prossimo Salve Chi è il tuo amico Ah è ancora lui Dè Dè Ah vabbè Dè Non voglio combattere con te Oh ci credo Vabbè Allora Dammi un secondo Azione migliore questa Li colpisco tutti e due assieme Dai forza Venite Colpiti Forza scemi Volete ancora combattere Non pensare di aver Non è ancora finita Mi spiace per te Ma mi sa di si invece Zio Ho trovato un altro talismano Molto bene Jackie Ne manca Ancora uno Selezionare Si L'avevo immaginato Grazie gioco Ma allora posso romperli A mani nude Devi solo prenderlo Nell'angolazione giusta Oh buongiorno Dai Venite qua Due in una botta sola Esattamente come il combattimento Di poco fa Il trio di triangoli Credo che nel momento In cui sei circondato Sia l'opzione migliore Te li toglie tutti In una botta sola Ok Dobbiamo quindi andare Da quella parte Bella Bella l'animazione Mi è piaciuta Onesto Mi è piaciuta L'animazione Ed eccolo qua Quello del toro Il toro Però prima Come al solito Andiamo a salvare Che tra l'altro Il doppiatore di sto cinesino È il doppiatore di RJ Della gang del bosco Quello del gioco almeno Allora Il toro Il toro C'è qualcosa qua sotto Potrebbe essere di sì Però a questo punto Esatto Aspetta forse Ho visto un forziere Non è un forziere È un teschio Molto bene Aspetta un attimo Posso combattere Con il teschio in mano Perché Però Aspetta È un oggetto Che non è lanciabile Mi viene da chiedere Se mi serva A questo punto Allora Beh L'opzione è facile Proviamo a lanciarlo Scemo io Anche che ci ho pensato Che potesse servire Dai Passiamo prima che Esatto Si chiude tutto E C'era neanche bisogno Della scivolata Jackie È stata un po' eccessiva Quella Ah questo è l'altro pezzo Dove eravamo poco fa Ma scusami Ah ok Se cambio Nel mentre che ne ho Uno attivo Si disattiva tutto Perfetto Ed eccolo qua Oh no Qualcuno ha già rubato Quello del toro E come hanno fatto Però scusami Che per arrivare qua Avevi bisogno Di entrambe le Di entrambi gli amuleti Razzo ti concerà Per le feste E chi è razzo Razzo Non fazzo Non prendermi in giro Oh scusa Beh ragazzi È stato un piacere Ma è uno zombie quello Non andrai da nessuna parte Se prima non ci consegni i talismani Certo Subito Guarda Aia Scusami Colpa mia Ma pensavo di avere Già attivo l'altro Dai belli Ecco fatto Aspetta 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 Due in un colpo solo Dov'è il cinese Che poi Effettivamente Questa affermazione È un po' sbagliata Visto che stiamo usando Jackie Chan Ecco fatto Dai bello Morti tutti No Manca ancora lui Ecco fatto Morti tutti Ci rivedremo ancora Chan Alla prossima Non vedo l'ora Siete dei bersagli perfetti Beh È stato facile Però non abbiamo trovato Quello del toro Peccato Secondo me Ce l'ha il cinese Con i baffi Zio Ho perlustrato Palmo a palmo Il tempio Ma ho trovato Soltanto due talismani Sei sicuro Che ce ne siano tre Sì Sì Lo zietto È sicurissimo Chiedi informazioni Nel villaggio Un'altra cosa Portami Dell'altro cibo Facisci in fretta Non permettere Che i talismani Casano Nelle mani Sbagliate Sì signore Sarà fatto zio Chi è che ci spia Da lontano Voglio che seguiate Chan Stateli alle costole Quel tipo potrebbe Darci un sacco di problema Come l'hanno animato Lui Beh 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 Bambini